Il passato che vedete è un pezzetto del naviglio che passava lì, questo è uno dei pezzettini che sono primi, poi forse questo, questo è lo sportesto, poi posterla, ho guardato oggi cosa significa, quella è la posterla, la posterla è una piccola porta di accesso ai camminamenti per le guardie, ovviamente questa è grossa, però ha un significato militare, anche per effettivamente qui c'erano le porte della città, adesso è così, ma c'erano le mura e questo serviva per proteggere l'interno della città, vedete che lì c'è Sant'Ambrogio, questa porta, che non è più originale, è stata rifatta nel 1953, questo giro di porte qua è stato fatto per allargare rispetto alla città muraria originale che teneva fuori Sant'Ambrogio e altre basiliche importanti. Questa qua mi sa che l'ultima volta l'hanno restaurata, però la tengono sempre in ordine, perché è un ordine. Com'è che ti chiami?